centralmente verso paccioni che sbuca tra le fila granata e alla fine insacca e apre la partita il dribbling gli va male poi mazzola la riconquista il numero 6 se la sposta con la sua la mazzola il tiro deviato anche in modo un po' fortunoso però i Los Milionarios trovano il pareggio per Lazzeri la finta si sposta si riaccentra a calcia e riporta in vantaggio il C e C il numero 11 Lazzeri chiama in aiuto Littera e Pacioni che è appena rientrato Pacioni alza questo campanile verso Lazzeri che sfiora il gol del 3 a 1 più Littera è lanciato verso la porta ne ha due davanti deve fermarsi trovare una soluzione riesce a passare il primo anche il secondo Littera alla fine va vicinissimo c'è De Vito ancora Pacioni rimane gli a dar fastidio ma ora il pallone è già da pace chi apre per Bertuglia è solo contro il portiere e non sbaglia Bertuglia trova il pareggio Lazzeri dall'altra parte dove c'è Littera che non sbaglia e riporta ancora una volta in vantaggio il C e C che prova ad andare via e ce la fa bene a due uomini anche a tre Lazzeri si fa tutto il campo da solo poi la tocca quello è tanto che basta perché Calicchia da due passi debba solo spingerla in porta C e C che ne mette a referto un altro prende tutto il tempo Calicchia prova anche ad andare via chiuso bene da tutte le maglie Granata ora Petrucci la sposta sul mancino accorcia le distanze e i Los Milionarios con Petrucci lo fa suo Foddis poi va al rilancio lungo ma la riconquista Lazzeri ha tutto solo e ha spazio e campo per far male lo sa e ne approfitta trova ora Romaniello poi il pallone centralmente per Littera che allarga ancora di più il divario ora sono tre i gol da recuperare Anastasio rilancio lungo da Pacioni la controlla bene e la mette giù Calicchia Pacioni grande schema dal portiere all'attaccante il C e C si laurea campione della Champions League dell'Io Cup battendo i Los Milionarios per il parziale di 7 a 3